2.13, Marco e Mary che ci portano già come puoi, persino a Harry Potter! Oh, Forza, una tachetica imitazione di scuola, credo che mi cetterei dalla torre di astronomia se pensassi di continuare per altri tuoi a mano. Come sarebbe mio? Non credo che mi vedrete spagare il mio tempo incantese con la prossima. Draco, tu non sei un assassino. Come sa cosa sui? Potrei scamboggerla! Lui si fida di me, sono stato scelto! Ti faciliterò la cosa. Ti prego, lasciami diretti. Non voglio il tuo aiuto! Ma lui ha visto! Io lo devo fare! Lui ucciderà a me! Hanno! Non fegato, proprio come sua madre. Mi scoglio a modo mio. No! Che signore sono stato chiaro per farmi un cazzo! Questo è il tuo momento! Fallo! Con l'antimo Draco! Ora! Un applauso! Un applauso! Un applauso! Un applauso! Com'è ritrosa! Io la amo! Sì, sì, sì. E quando ci sono queste fusioni, io adoro.